La volontà del nostro governo è creare, rafforzare un sistema Italia che si rappresenta nella sua complessità, nella sua diversità, ma sempre insieme per tentare di far crescere la nostra economia. Questa è la sfida. L'Italia, ripeto, è una nazione che ha caratteristiche uniche e riuscendo a metterle in mostra tutte, a coordinarle, ad organizzarle, può produrre risultati eccezionali. Questo evento è un po' anche una bella vetrina di questo modello che ha portato a risultati che già sono di fronte agli occhi di tutti. Si può fare ancora di più, specie sui mercati esteri, per riuscire a rendere anche le nostre aziende più competitive, capaci sui mercati esteri di affermarsi e portarsi dietro le produzioni e le trasformazioni, ripeto, nella loro caratteristica territoriale agganciata alla terra per le produzioni alimentari, a meccanismi di trasformazione, di innovazione, nelle quali l'Italia eccelle possono essere i nostri punti di forza.